Vi devo comunicare che da questo momento siete tutti indistintamente in nomination Perché da questo televoto altri due naufraghi abbandoneranno definitivamente questa sera l'isola dei famosi Bello questo comunque dai Si è più bello così No così è bellissimo Così non ci sono più nomination non c'è più No così anche così tutti sono andati in nomination È vero Allora non è tutto il lavoro Prima della finale Si